Buon pomeriggio, siamo con Stefano Zito in diretta su Siracusa News, possiamo dire, riconfermato, non ci sono ancora dati ufficiali, parliamo di dati ufficiosi, però sembra che sia comunque il più letto, forse anche il deputato regionale più votato della provincia. Sì, i dati che stanno arrivando sono veramente ottimi, non ci possiamo lamentare, poi la provincia di Siracusa ha dimostrato veramente di essere la migliore provincia tra le nove per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle. Ovviamente i dati che vengono da Messina e da Catania e Palermo non sono confortanti, diciamo così, quindi lì Musumeci è più forte, ma nella nostra provincia dobbiamo dire veramente che è la migliore di tutti. Il più votato, io qui vedo, parliamo di 6.447 voti e ancora stiamo parlando di neanche tutte le sezioni scrutinate, forse è un risultato ben più che sperato. Queste sono parziali solo di Siracusa città, quindi manca ancora tutta la provincia, ovviamente sì, il risultato è ottimo, penso che è stato ripagato l'impegno dei cinque anni precedenti, il fatto che comunque sia anche di essere un grillino anomalo, uno che non grida tanto ma cerca di lavorare moltissimo. Questa è una cosa importante, deve fare capire che noi non siamo solo quelli che fanno rumore, solo quelli che appunto gridano, ma sappiamo ben lavorare, la gente ci ha premiato, ma comunque sia, forse premerà anche un altro collega. Esatto, perché non ha premiato magari il candidato governatore Cancelleti, però sembra che proprio a Siracusa ci sia la possibilità ben più che concreta in questo momento che ci scatti un altro seggio al posto dell'Udc, teoricamente dovrebbe scattare. Beh, i dati che ci stanno arrivando sì, sono molto molto confortanti, ovviamente. Dopodiché dobbiamo aspettare la conclusione, diciamo, dello sfoglio di tutti i seggi, non solo quelli del comune di Siracusa, ma di tutti e 21 i comuni. Quindi però da quello che sta arrivando, noi come liste, e anche le notizie delle altre liste, di liste che non superano il 5% a livello regionale o di liste che hanno valori bassi a livello provinciale, ci fa ben sperare, molto ben sperare. Infatti possiamo dire che forse quello che più stupisce in questo momento è l'alternativa popolare con Alfano che ad Agrigento prende una buona percentuale di voti, se non sbaglio siamo sull'8-9%, a Siracusa pure, ma per il resto della regione fatica parecchio e tant'è che dalle proiezioni sembra non possa superare il 4,5%. Questo vuol dire che il deputato regionale all'uscente più votato dovrebbe essere uno tra Vinciullo e Cutrufo e soprattutto quello che ha lavorato di più, possiamo dire, perché sono le sue stesse parole, anche i vari report nella scorsa legislatura potrebbe non essere rieletto, anzi in questo momento non sarà rieletto. Certo, intanto loro pagano proprio una cosa, la colpa maggiore è avere dietro Angelino Alfano, nel senso proprio lui con questa virata brusca da destra verso sinistra, dopo aver perso anche molti dei suoi candidati forti che sono passati poi con Musumeci, molti di voi forse se lo ricorderanno quello che è successo soprattutto tra agosto e settembre, quindi era ovvio che la lista era indebolita, le liste a livello regionale. A livello provinciale il risultato non è cattivo ovviamente, ma se non scatta il seggio a livello regionale il seggio non può scattare neanche a livello locale. Sì, anche se c'è il deputato più produttivo, mi dispiace che comunque sia i dati, lo confermo, della sua produttività, ma il discorso poi cambia perché deve essere fatto un discorso generalizzato proprio a livello regionale, ma non sarà l'unica lista che rimarrà fuori. No, possiamo dire però che tra i partiti, anzi che il partito più votato è il Movimento 5 Stelle. Diciamo che forse non è più tripolare in questo momento la situazione a livello regionale, forse è più bipolare con il 30% quasi diviso da 3 punti percentuali tra Musumeci e Cancelleri, molto più staccato, anche di 10 punti sembrerebbe Micarii. Quindi non è così facile forse, non sarà così facile forse per Musumeci governare, a meno che qualcuno dalla parte del centro-sinistra non decida di avvicinarsi al centro-destra. E invece i progetti del Movimento 5 Stelle? Allora, intanto in questo momento non ci sono né tre poli né due, ce n'è uno solo e siamo noi. Gli altri sono una cozzaglia di partite che si sono messe assieme solo per vincere, questa è la verità. Però alla fine noi gli abbiamo dimostrato che col voto di opinione, con tanti sacrifici, dimostrando anche che siamo persone che sappiamo lavorare, la gente ci ha apprezzato e ci ha votato. Quindi non esistono poli, ci siamo solamente noi. Gli altri è solo per non far vincere noi che si sono dovuti mettere assieme. Senza parlare del PD e della parte sinistra che si è autodistrutta da sola, dimostrazione che Renzi forse non è neanche passato come doveva fare una campagna elettorale in Sicilia per Micari. Quindi anche lì c'è tanto da capire. Ovviamente ci saranno le transumanze, qualcuno che è salito possibilmente con uno schiaremento, che passerà gli altri. Questa è una cosa che abbiamo visto con Crocetta e ovviamente succederà anche con Musumeshi. Ancora ripeto, i dati, dobbiamo aspettare i dati definiti, quindi ho ancora una piccola speranza. Il secondo partito sembra che sia comunque quello di Forza Italia. E quello di Forza Italia? Sì, ovviamente noi siamo andati, secondo me, molto meglio di Forza Italia e con persone nuove, persone giovani, anche lì. Tutto si può dire tranne che il movimento non sia un movimento politico che investe sui giovani e questo già è importantissimo ed è un bellissimo segnale per quelle generazioni che qualora volessero fare politica non trovano mai spazio negli altri partiti. Siete pronti quindi ad altri cinque anni di opposizione? Eh sì, allora non dovessimo vincere perché ripeto, aspettiamo ancora, siamo fiduciosi. Però stavolta li faremo vedere quattro perché entreremo in molti di più rispetto a prima e prima erano 90 deputati, ora saranno 70, quindi dimostreremo, saremo attentissimi, perché poi quando la torta si va a ridurre sempre di più, quando c'è da spartire, poi cominciano a volare, diciamo, di stracci. In questo caso noi cercheremo di intervenire per far sì che quei pochi soldi che sono rimasti vengano distribuiti veramente per quello che serve ai cittadini e non per interessi personali. Non ha mai parlato contro Musumeci, il possibile governatore regionale, diciamo che adesso lo vedremo dai risultati finali, è stato anche in commissione con lui, quindi teoricamente gli impresentabili, quelli che lui non ha mai voluto, anche se si è ritrovato, dovrebbero pure essere all'interno della stessa assemblea regionale che vi vede protagonisti. Potrebbe esserci, potrebbe profilarsi anche un accordo su i vari progetti che Musumeci vorrà portare avanti con il Movimento 5 Stelle? Allora, quando Crocetto ha portato provvedimenti interessanti, noi non abbiamo avuto nessuna difficoltà a votarli. Qualora dovesse portare Musumeci provvedimenti interessanti, noi non esiteremo un attimo a votarli. Sta a vedere se li faranno portare, questo è tutto un altro discorso, perché lui dovrà, lui riuscirà a comandare, lui riuscirà a tenere il timone la barra dritta, perché quando metti troppo il gallo in un pollaio questa cosa non può funzionare, quindi sarà praticamente, penso, una legislatura molto, molto pesante e non so se lui riuscirà a tenere le redini della gestione di un'assemblea, dei vari assessori e quant'altro, perché se tutti vorranno avere le proprie nomine, tutti vorranno avere il proprio tornaconto, allora lui non governerà, sopravviverà. Grazie.